E Karl Molitor vince alla grande il Loverhorn. Le speranze della Svizzera nella discesa femminile sono riposte in Frida Danza. Negli anni 70 è lui il vero fenomeno, il discesista Roland Colombert. Pirinzu Brigham, campione del mondo di gigante. Bravissimo, Freddy Snyder! Bruno Kellen al traguardo con il nuovo miglior tempo! Che cara, quella di Patrick King! Doppietta per la Svizzera! Molte cose cambiano, ma una rimane sempre uguale. Omidash Dominic! Condividiamo i momenti migliori nella miglior rete.